Dai cantieri navali di Castellammare di Stabbia all'ingresso abbiamo atteso a lungo il capoturno ma il capoturno bocca cucita non ci hanno parlato di questo sciopero stranissimo sciopero perché era solo e limitatamente dalle nove a mezzogiorno con il blocco della strada, la penisola solentina tutta allertata e allarmata ma purtroppo sembra che non abbia dato esiti positivi gran parte degli operai sono al lavoro, ci hanno detto che non partecipano a questo sciopero ci hanno invitato a contattare l'ufficio generale del personale di Tieste per conoscere le motivazioni ci sembra molto ma molto strano tra l'altro sappiamo che sono arrivate delle commesse dalla marina militare la corderia è riattata logisticamente per alloggiare questi militari che controlleranno la produzione sono all'incirca sei grandi navi pertanto questo sciopero ci sembra... non ne conosciamo la monitorazione ci auguriamo che in seguito a questo video ci trasmettono qualche cosa grazie a tutti grazie a tutti